Marco Dell'Aventura adesso segna anche i suoi calci di punizione, ma è una cosa nuova, che dici te? Sì, sì, semplicemente me la sono sentita, ho parlato con i compagni, ho detto di toccarmela e fortunatamente è andata bene. Ha fatto una gran partita, ti ha fronteggiato bene Scarati, però nell'occasione del gol non è riuscito a fermarti, perché ovviamente era un calcio di punizione, nel secondo tempo si è andato via due o tre volte, hai messo due palle in mezzo, molto importante. Sì, loro sono una squadra molto ossia, soprattutto sul loro campo, però noi abbiamo una squadra con elementi molto validi e siamo superiori e secondo me lo abbiamo dimostrato anche soffrendo, perché giustamente a loro servono punti, ma come servono anche a noi, perché dobbiamo raggiungere subito anche noi l'obiettivo salvezza. Quella scaletta la state raggiungendo bene o male, perché i tre punti acquisiti sul campo della Griternina vi aprono le porte, veramente a giocarvi poi la parte finale della stagione del migliore dei modi, all'orizzonte c'è una gara, un derby contro il Boiano che potrebbe aprirvi ancora di più gli spazi per la permanenza. Sì, sì, diciamo che stiamo raggiungendo l'obiettivo, però non ci dobbiamo fermare qui e dobbiamo continuare partita dopo partita. Abbiamo un po' steccato queste ultime partite, pareggi, pochi gol, però non abbiamo neanche subito e abbiamo vinto. Dobbiamo continuare così fino alla fine e ci toglieremo soddisfazioni anche oltre alla salvezza, secondo me.